Non è ancora chiaro se i ladri entrati in azione questa volta sono gli stessi le rapine di qualche mese fa e a stabilirlo saranno i carabinieri. Ciò che è certo però è che si ritorna a parlare di problemi relativi alla sicurezza nell'area industriale di Rende. Nei giorni scorsi infatti i ladri sono entrati in azione e incontrati a Lecco prendendo di mira ben 5 aziende. In alcuni casi l'allarme ha messo in fuga i ladri che sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori ora sono al lavoro per individuare la banda di rapinatori. Ricordiamo che nei mesi scorsi si era molto parlato di rapine avvenute ai danni di alcune aziende sempre nella stessa zona industriale di Contrada Lecco di Rende. Un problema che si ripropone e che già nei mesi precedenti aveva portato danni a imprese alle quali erano stati sottrati i soldi ma anche materiale senza considerare i danni subiti.